Ciao a tutti, bentornati. Questo è il primo video di ottica, il primo di una lunga serie e anziché entrare subito nello specifico dei vari fenomeni, voglio fare una breve introduzione sulla natura della luce, ovvero su cosa noi pensiamo che la luce sia. Ci siamo interrogati su questo tema fin dall'antichità, però solo nel 1600 si affermano due teorie, due teorie in forte contrasto tra loro. Infatti, secondo l'inglese Isaac Newton, la luce ha una natura corpuscolare, ovvero è fatta da piccole particelle di materia. Invece, secondo l'olandese Huygens, la luce è composta da onde. Vediamo queste due teorie leggermente più nello specifico. Secondo la teoria corpuscolare di Newton, la luce è composta da piccolissime particelle, quindi dotate di massa, che interagiscono con i campi gravitazionali e tali particelle sono liberate dai corpi luminosi e in generale si propagano in linea retta, quindi il concetto di raggio di luce va molto bene per descrivere questo comportamento. Possono deviare dalla linea retta per due motivi, per la riflessione, che si ha quando una particella di luce rimbalza contro una superficie liscia, esattamente come fa una palla da biliardo quando va contro la sponda, e la rifrazione, che è quel fenomeno che fa sì che la luce cambi direzione quando passa da un mezzo trasparente a un altro mezzo trasparente, come ad esempio dall'aria all'acqua, e questo cambio di direzione era dovuto all'interazione delle particelle di luce con le molecole della sostanza. Inoltre, questa deviazione cambia a seconda dei colori e quindi si parla di dispersione della luce, cioè il fatto che quando la luce attraversa un prisma si divide nei vari colori. Infatti la dispersione della luce, cioè il concetto che la luce bianca è fatta di tanti colori, è appunto dovuto a Newton. Invece, secondo la teoria ondulatoria, la luce è costituita da un insieme di onde meccaniche, proprio come le onde sonore, che sono oscillazioni dell'etere. Secondo Huygens, ogni punto di un fronte d'onda è sede di onde sferiche, quindi questo qui che vedete è un fronte d'onda che istante per istante genera delle onde sferiche e la tangente a queste onde sferiche costituisce il fronte d'onda successivo e così via. In questo modo può spiegare con un modello ondulatorio la riflessione e la rifrazione della luce. In questa immagine si vede il fenomeno della rifrazione, cioè col modello ondulatorio Huygens spiega come la luce passa da un mezzo a un altro. Diciamo che entrambe le spiegazioni riescono a giustificare i fenomeni osservati. Per tutto il 600 e il 700 non sono stati fatti grossi passi avanti per una mancanza di prove sperimentali, quindi non si avevano grandi argomenti per dare ragione all'uno o all'altro, ma tendenzialmente la comunità scientifica ha appoggiato la teoria di Newton, sostanzialmente per una questione di autorevolezza. Newton è stato forse il personaggio che nella storia della fisica ha scoperto più cose, forse ancora più dello stesso Einstein e quindi si tendeva a dare ragione a lui. Poi oltretutto la sola fisica coincideva sostanzialmente con la meccanica e con la gravitazione, quindi vedere la luce come un insieme di particelle era un'idea che poteva essere ben accettata dagli studiosi dell'epoca. Quindi il 1700 si conclude con la convinzione da parte della comunità scientifica che la luce fosse fatta di particelle, tutti tranquilli, quando nel 1801 il fisico inglese Thomas Young fa un esperimento che rivoluziona completamente l'idea che si aveva di luce. Che cosa fa? Proietta un raggio di luce, queste onde qua parallele sono della luce, contro due fenditure. Allora dalla teoria corpuscolare ci aspetteremo che la luce passa attraverso queste due fenditure e forma su questo schermo in fondo due pallini luminosi in corrispondenza delle due fenditure. Invece ciò che si osserva sono delle frange chiare e scure, cioè un puntino luminoso centrale, poi due zone scure e poi due altri punti luminosi, poi altre due zone scure e così via. E questo è un fenomeno strettamente ondulatorio. Infatti che cosa succede se mandiamo delle onde, ad esempio delle onde dell'acqua, contro uno schermo con due fenditure? Succede che come previsto da Huygens dopo le fenditure si generano due onde circolari, le quali interagiscono con interferenza costruttiva e distruttiva e quindi si forma un'onda proprio davanti, poi poco a destra e poco a sinistra l'acqua è piatta perché l'onda costruttiva è stata annullata dall'altra onda, cioè un'onda è stata annullata dall'altra in interferenza distruttiva e quindi zone con onda, senza onda, onda senza onda e così via. Esattamente come avviene con un raggio luminoso. Quindi questo esperimento sembrava proprio voler dire che la luce ha una natura ondulatoria. L'esperimento di Yang è stato talmente rivoluzionario che nei primi anni non è nemmeno stato accettato dai suoi contemporanei. Mi hanno detto avrei sbagliato qualcosa, non è possibile. Talmente andava contro le convinzioni dell'epoca. Invece Yang aveva svolto il suo esperimento correttamente, infatti la luce può interagire come un'onda e negli anni successivi diversi fisici, primo tra tutti Fresnel, con una serie di esperimenti di diffrazione interferenza dimostrarono in modo netto che la luce aveva un comportamento ondulatorio. La teoria della luce come onda è stata confermata anche dagli studi nel campo dell'elettromagnetismo. Infatti James Maxwell ha dimostrato che la luce è un'onda elettromagnetica. Una dimostrazione matematica molto elegante e raffinata, seguita da una prova sperimentale. Infatti pochi anni dopo il fisico Hertz ha prodotto sperimentalmente delle onde elettromagnetiche che poi sono state sviluppate da Guglielmo Marconi con la realizzazione della prima radio. Quindi la luce è data dall'oscillazione di campi elettrici e magnetici esattamente come le onde radio. L'unica differenza tra un raggio di luce visibile dall'occhio umano, è un'onda radio e la lunghezza d'onda. Ci sono altri tipi di onde elettromagnetiche non visibili all'occhio umano come i raggi ultravioletti, i raggi infrarossi, le microonde e tanti altri. Quindi in sostanza nel 1800 erano tutti convinti che avesse ragione Newton, la luce è fatta da corpuscoli. Poi arriva l'esperimento di Young, altri esperimenti, cambiano tutta idea. No, la luce è un'onda elettromagnetica, quindi siamo nel 1900 tutti convinti. Aveva ragione Eugens, questa volta Newton aveva torto. Eppure la storia si ripete, perché proprio all'inizio del 900 si fanno degli esperimenti che non trovano nessuna spiegazione col modello ondulatorio della luce. La luce come onda elettromagnetica non giustificava ad esempio lo spettro di emissione del corpo nero, cioè la luce emessa dai corpi solidi surriscaldati. Non riusciva a spiegare gli spettrici e le frequenze della luce emessa e assorbita dai gas monatomici. non si riusciva a spiegare la stabilità degli atomi, non era compatibile con le leggi dell'elettromagnetismo. Un altro fenomeno che non poteva essere spiegato con l'elettromagnetismo di Maxwell era l'effetto fotoelettrico, che riguardava l'estrazione di elettroni nei metalli. Quando si spara luce ultravioletta su un metallo questo emette elettroni. Il modo in cui venivano emessi questi elettroni non era compatibile con la luce come onda elettromagnetica. In questo contesto è nata una nuova fisica, detta meccanica quantistica, nella quale la luce ha sia un comportamento ondulatorio sia un comportamento corpuscolare. È nato il concetto di fotone, introdotto dallo stesso Einstein, e i fotoni sono considerati pacchetti di onde elettromagnetiche. Non sono proprio delle particelle perché non hanno massa, però allo stesso tempo sono delle particelle perché hanno una quantità di moto. La quantità di moto è massa per velocità, quindi teoricamente, secondo la fisica classica, solo le particelle dotate di massa possono avere quantità di moto. Invece la luce è una specie di particella senza massa ma con quantità di moto. Quindi potremmo concludere la nostra storia con un buon pareggio tra Newton e Huygens. Avevano un po' ragione tutti e due. La luce è sia una particella sia un'onda. Questo video finisce qui. Nei prossimi analizzeremo più nello specifico i vari fenomeni luminosi ai quali abbiamo accennato in questo video. Grazie e arrivederci.